Siamo nella sede di Confartigianato a Pesaro in via Bedosti, questa bellissima sede che è stata inaugurata un mese fa e che oggi ospita la conferenza stampa di fine anno. Nel pesarese sono 2.800 le imprese che Confartigianato associa. È un dato che è estremamente notevole, soprattutto facendo riferimento che, per esempio, considerate che nel solo 2023 1.264 imprese hanno cessato l'attività. Diciamo che l'andamento ad oggi vede l'edilizia in difficoltà rispetto al Trend Marche, un settore economico abbastanza comunque in difficoltà, però ci sono lati positivi sul dato occupazionale e questo ci fa ben sperare anche nel percentuale, anche in prospettiva per quello che riguarda l'internazionalizzazione. La provincia di Pesaro è una provincia viva da questo punto di vista e quindi dobbiamo essere ottimisti. Un 2023 complesso che eredita anni complessi, in cui il sistema economico comunque ha reagito, sta lavorando, cercando di portare propositività. Sicuramente l'occasione di Pesaro, capitale della cultura, è una grande opportunità per rendere ancora più vivace e attrattivo il nostro territorio. Le nostre imprese sicuramente ne avranno benefici e anche noi come Confartigianato, partner della capitale della cultura, lavoriamo affinché si creino opportunità di visibilità, vivacità e di interesse perché le imprese vadano bene e possono aprirne anche altre. Abbiamo salutato, ripeto ancora una volta, Silvana della Fornace che è stato un pilastro della nostra associazione e diamo il benvenuto a Riccardo che sicuramente avrà un lavoro impegnativo e un lavoro pieno di soddisfazioni. A lui faccio tutti gli auguri, questa nuova sede sicuramente è un contenitore che andrà riempito, non abbiamo paura, sicuramente sapremo fare e avremo un 2024 dove tutte le nostre sfide saranno ottimisticamente affrontate e potremmo sicuramente riempirlo con ottime iniziative come abbiamo fatto nel 2023. Purtroppo oggi viviamo in un periodo che le aziende, purtroppo l'abbiamo visto dai dati, non crescono, ma diminuiscono, anzi per noi è fondamentale essere quanto più vicini a loro, per essere, come dicevo, fare rete, per dare una risposta quanto mai più possibile reale, pronta, immediata. Ci sarà anche un appuntamento nazionale di confartigianato in primavera, che è un'altra cosa che abbiamo chiesto a tante realtà, è stata tra le prime a rispondere e in generale appunto un lavoro, diciamo, di identità tra quello che è il marchio capitale della cultura e quello che è un marchio di qualità del saper fare artigiano. Pensiamo che tutti questi messaggi insieme possano contribuire a essere un shock positivo per l'economia del 2024 che ne ha bisogno e poi i progetti di rete che invece sono la base e sono stati presentati oggi avranno il compito di consolidare, diciamo, quella spinta positiva che il 2024 dovrà saper dare.